Noi di Bayer abbiamo considerato sempre molto importante poter disporre delle mappe di resa dei propri apprezzamenti. La chiave per capire di più ed imparare nella propria azienda. Siamo comunque consapevoli che non sempre è possibile avere a disposizione una metitrebbia con mappatura delle resa. Ed è per questo che abbiamo sviluppato un kit 100% compatibile con FieldView da poter installare su qualsiasi marchio di metitrebbia e su metitrebbia di qualsiasi età. Andiamo ora a vedere l'installazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.